Aree di verde non attrezzato, campi e qua e là viuzze fitte di villette e piccole imprese e negozi. Si snoda sotto i piedi degli appassionati delle passeggiate una pista protetta lungo il colatore cerca, ma quei prati giacciono nel parco del Morbasco, accanto a via Flaminia, per poi sperdersi in una zona disabitata di Cremona, tra via Carpena, via Biffi, via Miradori e via Bombici. Strade che non comunicano tra loro, chiuse a non più di 200 metri dall'affollata via Giuseppina. Si comprende l'appetito degli impresari edili, ma la disponibilità del Comune a inserire nella variante del piano di governo del territorio oltre 12.500 metri quadrati di area residenziale proprio in quella zona del parco, in prossimità di via Bombici, ha scatenato proteste già prima dell'approvazione a maggioranza del gennaio scorso in Consiglio Comunale. Cementificazione selvaggia, ecco l'accusa. Pochi giorni fa però la Giunta Provinciale ha accolto il nuovo perimetro del parco, restringendolo, dopo aver preparato il terreno, anzi il taglio, con un'altra delibera di Giunta del 25 ottobre del 2011. Grandi polemiche circa un anno fa, da parte di Luci, il Laboratorio Urbano di Iniziativa Civica, che ha protestato duramente contro un cartellone pubblicitario che metteva già in vendita l'area residenziale di via Bombici, ancora prima dell'approvazione municipale, poi arrivata al traguardo nel gennaio 2013. Sarà probabilmente la prossima amministrazione ad affrontare proposte di nuove edificazioni. La crisi economica forse ha fermato per ora eventuali progetti rimasti in agguato. Solo la crisi, non la Regione, con le sue osservazioni al PGT di Cremona, che proponeva un'edilizia volta più al recupero che ai nuovi cantieri, a un minor consumo di suolo, alla prevenzione del fenomeno dell'invenduto immobiliare e a una maggiore valorizzazione turistica del Po, oltre a tutte le maggiori per il terreno agricolo. Luci venne a sapere dalla Regione che il Comune non aveva nemmeno chiesto al Pirellone un parere sul rischio idraulico e la compatibilità idrogeologica. Protestò anche l'amministrazione provinciale per la totale assenza della documentazione geologica, poi tutto si è sistemato. Il Parco del Morbasco è servito ora per essere smembrato per una prima parte.